Occhio a non cadere non lo so compato dovremmo andare a guardare anche sopra per sicurezza è rimasto abbastanza uguale a vedere sopra qua per dire il tavolo qualcuno è venuto non era qui il tavolo ed era un po' più là siamo dei youtube facciamo i video nei luoghi abbandonati ragazzi siamo tornati insieme a marx dove abbiamo trovato la tavola a Ouija abbiamo deciso di venire di giorno perché siamo stati qua di notte ma al momento è meglio evitare perché è abitatissimo di notte quindi siamo qui adesso facciamo un'indagine approfondiamo il discorso che abbiamo lasciato di sospeso con Massimo adesso sembra tranquillo vogliamo ritornare ancora di notte perché di notte è diversa perché è un'altra cosa no? sì sì no quello sì però dobbiamo capire come fare dobbiamo capire come fare perché se è veramente come abbiamo visto l'altra volta è molto pericoloso sì sì ma torneremo torneremo se facciamo più dentro no è meglio di tanto però adesso adesso approfondiamo un pochettino il discorso della tavola a Ouija adesso stiamo controllando le stanze ragazzi perché giustamente c'è stato un po' di movimento l'altra volta che siamo venuti di sera ma adesso è totalmente totalmente vuoto sì 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 c'è un sacco pieno di bottiglie di birra quindi vuol dire che qualcuno viene qui a fare festa esatto però adesso è normale scendiamo giù a vedere scendiamo sotto vediamo quante bottiglie lei male di bottiglie di fuori sul terrazzo vieni ecco sì 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 è vera e ci sono varie entrate principali i computer rotti guarda lì questa porta qua era chiuse ultima volta che si è venuti questa qua era chiuse ehi 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 occhio qui andiamo Max io tiro fuori il K2 tranquillo anche l'altra volta ricordo che anche l'altra volta era abbastanza tranquilla sai cos'è che fa uno sbrillacchio appena appena sull'arancione ma nulla di che eccolo Max c'è qualcuno? siamo qui in pace non vogliamo disturbarti hai brillato potresti rifarlo per favore ma siamo nel posto dove abbiamo trovato la tavola dove hai fatto la tavola? proviamo proviamo qua mettiamo i dispositivi andiamo lì dove c'è sì perché altro per avere l'appoggio pericolosi sì 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 Grazie a tutti.